Buongiorno ragazzi, siamo a Cortina e svegliarsi con questo panorama è meraviglioso E lassù c'è la neve, la vedete? Lassù, Tomar sicuramente sa come si chiama Come si chiama quel monte pupetto? Quello sulla destra? Quelle sono le tofane E da una parte, suppongo verso nord, c'è la neve E questo è il panorama splendido, splendido Volevamo fare un picnic oggi per pranzo perché è già praticamente ora di pranzo Abbiamo dormito fino a tardi ma l'erba è altissima E quindi adesso mangeremo qualcosina E poi andremo anche in centro a fare un po' di shopping Quindi io adesso vado a sistemarmi, faccio una doccia Oggi trucco veloce farò perché non voglio perdere troppo tempo di questa giornata meravigliosa Vediamo com'è la pasta Stiamo facendo le conchiglie, ci voglio un sacco ma sono buone E Tomas Buongiorno pupetto Ciao Tomas dovete sapere che in montagna sta con i pantaloncini corti Giusto Tomas è la persona più calorosa al mondo dovete sapere No ma il sole comunque è caldo Temerario, è vero fa più caldo fuori che dentro Che bello che sei pupetto Apri anche quella finestra No Già l'ho appena chiusa Io ho freddo, io vivo nel gelo con Tomas Ci serve un pentolino per il sugo e l'arrabbiata qua Ci serve un pentolino per il sugo Devo prendere questo Che dite? Sarà troppo grande? Forse no Ok il sugo è pronto, la pasta dovrebbe essere quasi pronta Quasi pronta Tomas l'ha assaggiata ma non è ancora pronta Ah si devo preparare il sale Come vi dicevo mi manca sempre sale E qua fuori E' splendido Si sentono solo gli uccellini Bellissimo Cosa devo filmare? Tomas mi sta indicando che devo filmare L'ho già filmata come si chiamano le tofana Si, si vede anche la neve Quella con la neve è la tofana di Rozes Ecco, è la nostra guida alpina Tomas Si spiegherà Quella invece la più alta è la tofana di mezzo Ah questo è facile Te la sei inventata in questo momento E dopo? E dopo quello non mi ricordo Aia, aia, aia Questa la tagliamo magari Tofana di Insel forse Ma non so Non mi ricordo Non è bella come le altre due Diciamo così Guarda che hai il sugo Santo cielo E qua il sorapis qua E quello è il sorapis E lì c'è un lago meraviglioso E voglio assolutamente vederlo Invece su questo albero ci sono sempre tantissimi uccellini Perché la signora che abiterà gli dà sempre da mangiare Io a volte gli metto le bricio Però non vengono mai Non si fidano E molto spesso qui su questo prato Vengono i cerbiatti O i caprioli E li ho anche fotografati un paio di volte Pranzetto pronto Tomas gli dico sempre Non mangiare Aspetta Mangia buppetto Pranzetto Pasta Con sugo all'arrabbiata Quello che avevamo in casa sostanzialmente Perché mi siamo andati per la spesa E noi mangiamo con questa vista Wow Outfit di montagna Giubbotto E Timerland E Tomas Continua ad essere In pandoncini Però l'ho convinto A prendersi una felpa Mi ringrazierai Mi ringrazierai Ecco Tomas Intento a fare foto Il panorama è davvero bellissimo Peccato che lui abbia 700 foto Dello stesso panorama Che non guarda mai Però sono dettagli Ce l'hai? Sì Questo è importante Posto D'altro abbiamo trovato un tipo che era vestito Con i pantaloncini blu scuri Con una maglia rossa E con le stesse scalpe di Tomas Tipo la gente qua si è messa d'accordo E non mi hanno avvisato Che bisogna vestirsi tutti così uguale Mi sono tolta il giubbino Perché fa veramente caldo Questo sostanzialmente è l'outfit montanaro mio Probabilmente sto esagerando Penseranno che io arrivi Non lo so Da Dubai Dalla Sicilia In un posto molto caldo Perché sono vestita come se fosse gennaio E c'è Tomas Facci la guidatina Allora Lì Lì c'è la chiesa di Cortina E dietro il monte dietro Questo è un po' magagnon Questo grande qua Questo grande qua Tutto stesso po' magagnon Sì Questo è il po' magagnon Ok Invece queste qua Sono le tofane Sempre le tofane Le tofane Che oggi Tomas ha detto Che non ha senso andare In rifugio I ragazzuoi Perché praticamente Arriviamo che chiudono Che chiude le 5 No chiude alle 4 e 40 mi sa Invece le 5 è l'ultima Discessa Quindi non ha tanto senso Però vogliamo andarci domani Ok Qui ci sono rapi Non si vede adesso Non si vede E lì invece si vede in cristallo Più avanti Più avanti Eccolo qua Questo è uno Dei nostri sentieri preferiti Veniamo spesso Qui a passeggiare E si sente il rumore Del ruscello Non so se è un ruscello O un fiume Non so se è un ruscello Ho raccolto una pigna Un torrente Bene grazie Qui mi ricordo Quando ci siamo appena Messi insieme Io e Tomas Non mi ha scattato una foto Qua Tipo quasi due anni fa E tutti mi chiedevate Chi te l'ha scattata Una foto Ma chi è lì con te Adesso sapete chi era Abbiamo quasi finito Il nostro sentiero Abbiamo raccolto anche Questi fiorellini E qui c'è questa chiesetta Bellissima Che credo sia tipo La chiesetta più piccola Che io abbia mai visto Ma molto carino Alla fine aveva ragione Tomas Perché fa un caldo Assurdo E io sono Con il giubbino E la felpa Siamo in centro Cortina Adesso siamo appena Andati a fare Una mini spesa Perché abbiamo preso Le patate Perché noi mangiamo Sempre patate al forno Come si è capito E abbiamo preso Un po' di insalata Per Tomas Poi dovevamo prendere due cose Siamo usciti col carrello pieno Tra l'altro c'era una signora Due signori giapponesi E lei era vestita in kimono Perfettamente Cioè sembrava di essere a Tokyo Aveva anche i sandali Tipo l'infradito Con le calze Troppo forte Infatti le ho sorriso Cosa? Di poche parole Ma le sai fatti Ho detto a Tomas Che è di poche parole Ma dice che Di fatti ne fa tante Praticamente non c'è nessuno Mai visto Questo è uno dei negozi Miei preferiti Perché vendono fendi Andiamo a dare un'occhiata Che cosa c'è Mai visto Il centro di Cortina Così vuoto Come ti senti Che sei il mio quasi marito? Io lo chiamo sempre Scolai Mosh Quasi marito No Non vuole dire l'altra parola Che mi viene in mente Ma Ma Molto bene Mi sento molto bene Mi senti bene? Il mio quasi marito Siamo fidanzati Ancora due mesi Qualcosa E' bello dirsi Fidanzato Ancora per un mese Per due mesi Anzi Due mesi e mezzo Due mesi e mezzo Dopo sarai Mio marito Oddio Mi sento così vecchia A dire mio marito Chissà se ci abitueremo subito Abbiamo preso il gelato Tomas ha preso gli spaghetti Che sono sempre stati Anche i miei preferiti Sono buoni? Super E io ho preso una coppa Alle fragole Guardate che vista Bellissimo qua Davvero bellissimo Sto cercando di sfamare Gli uccellini Ma appena lì Oh lì ce ne ha uno Chissà se Sì, ha preso il biscottino? Sì, guarda, lo sta mangiando, è là Io sfamo sempre tutti gli animale Eh, se l'è portato via È andato via, se l'è portato via Sono pronta con un altro pezzetto Comunque lascio sempre qua per loro Ho guardato quali film abbiamo oggi in tv E sono tre le cose interessanti Io già so cosa Thomas sceglierà Numero uno, colazione da Tiffany con Audrey Hepburn, romantica Numero due, The Tourist con Johnny Depp Anche qua nessuna reazione Numero tre, piedone lo sbirro con Bud Spencer Io già sapevo cosa guarderemo Piedone lo sbirro con Bud Spencer Ti faccio scegliere anche a te un po' Lo so, lo so Ma a me va bene Però un po' Ciao Piedone lo sbirro è figone Eh, figone, figone, figone Li sappiamo a memoria Adesso dobbiamo guardare il Dowling Ma quella? Ah, io ho bisogno di questa? No, quella Ah, pensavo fosse parcheggiata Favo una foto E sto filmando, non va bene E cosa scrive dietro? Che ne so Audi A4 Experience No, R8 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 Scusa, questo è un altro livello Sì? Beh, sì Non offendere la rossa Titi Ma no Qualcuno si è mangiato tutto il pacchetto di Ringo O Ringo Boys Qualcuno Ti dico subito Dimmi subito Il pacchetto di Ringo vuol dire sei biscotti Ah Sei Ma io scommetto che tu tra poco ne vuoi un altro No, no Non è vero Che bugiata C'è un altro C'è tutto il pacco pieno Magari dopo dai Sì, sì Magari anche adesso Patatone Patatone Io ti amo patatone Tu sei mio quasi marito Quasi marito Fa due mesi e mezzo Sì Mio patatino Alla fine ho vinto io E stiamo per vedere colazione da Tiffany In realtà non è che ho vinto io Semplicemente Ho fatto prima accomodare Tomas Siccome è pigrissimo Però non ha voglia di alzarsi Ho messo colazione da Tiffany Tac E io voglio ancora guardare Bud Spencer Nella pubblicità guarderai Bud Spencer Abbiamo visto tutti i film di Bud Spencer E lui tra l'altro ce li ha tutti salvati su un hard disk Quindi insomma Non ce li ho tutti Ce li ho tre Sì Trenta Per massimo Sì, sì, tre Bene Io voglio vedere questo romantico carino Non sono amante dei film romantici Però questo è davvero bello Colazione a Tiffany Questo film è fantastico Perché in fondo noi due non ci apparteniamo È stato un incontro casuale E poi non voglio possedere niente Finché non avrò trovato un posto che mi va a te Guardate il mio patatino qua Ti ho pure coperto Quando? Eh? Ti ho coperto? Quando questo? Adesso? In giugno? In giugno Oggi siamo Il 10 giugno Il 10 giugno Vabbè siamo nei monti con Annette Quella coperta di lana Anch'io guarda che maglione ho Guarda che roba E Tomar si è anche addormentato Mentre guardavamo colazione da Tiffany Che appena ricominci Come non è? Come non è vero? È vero? Si è addormentato Poi appena si è svegliato Ringo Boys E altro pacchetto E sono buoni E piuttosto tardi Tomar si sta facendo la doccia Io adesso vado a struccarmi Non sono piena di macchie Comunque è lo specchio che hai fatto così Non mi preoccupate Vado a struccarmi Poi andiamo a Nana Domani vogliamo andare al rifugio Ragazzuoi Vediamo se ci sveglieremo presto Oppure no Perché io sono veramente Una dormigliona Cioè incallita Quindi vediamo Tomar stava cercando di obbligarmi A dirgli che mi sveglierò A una data ora Ma io non ce la faccio Cioè veramente Vedremo Comunque un bacio Vi mando davvero un bacio Un grosso grosso abbraccio Perché mi state vicinissimi Seppure via internet Seppure non siamo vicini Nella realtà Mi siete davvero tanto tanto vicini Nel cuore E leggere i vostri commenti E' molto importante per me Il vostro appoggio Il vostro affetto Sono davvero davvero Importanti Quindi niente Baccio E buonanotte Ciao A domani Ci stiamo preparando Per andare al rifugio Ragazzuoi E questo è l'outfit di Tomas Che cosa ne dite? Fai vedere anche la piuma E beh Fantastico Fantastico Va mezzo metro indietro Sta piuma Ma è la tua? Di quando eri piccola? Non ero piccola Ma la contano vai su Cosa è tutta sta roba? Montelussari Seffeld Ah tutti i posti Praticamente dove andavate Ti mettevi il coso Sì sì Non esci così o sì? No Questo è piccolo Sì non ti sta neanche È piccolo Io sono così pronta Ho fatto il trucco Proprio minimo Base Però I capelli Devo sistemare Un secondo E quindi cosa prendi? L'altro L'altro Questo è 2004 Potrei prendere anche questo Oddio ho paura Ah patatone Non avevo mai visto questo qua Bellissimo patatone Anche questo ha qualcosa Ah è una piumetta piccola Questa è piccola Questa è sobria Che forte Vuoi mettere questo? Guarda Guarda come ti sta No Perché come ti sta Meglio quello rosso Vi faccio vedere Oggi La giornata è splendida Ancora più bella di ieri Guardate che meraviglia Abbiamo fatto colazione qua Wow Ovvero io ho fatto colazione Mentre Tomas si preparava E non Non vedeva l'ora di uscire Che bello E adesso praticamente Noi andiamo Lassù Da quanto ho capito Lassù E Tomas non mi aiuta Non dice niente Due firma e basta È marmolata dietro Stupenda Ma invece Sono intermoti Un serapis E cortina Sotto Non c'è Non è neanche Che bella E' più bella Che bella Guarda dietro di te Guarda dietro di te Guarda dietro di te Guarda dietro di te amico Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ti filmo fin su. 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 Raccontaci, Pupeto, dopo la figura che mi sono fatta. No, ti filmo fin su. No, ti filmo fin su. No, ti filmo fin su. Ok. No, ti filmo fin su. Ok. Ok, sì. Monte Lao. Sì. Quello è il Monte Pelmo. Sì. Quello è il Monte Civetta. Ok. Ok. E questo qua è la Marmolada. Questa qua è la Marmolada. Ok, hai detto che è il Monte più alto delle Dolomiti, infatti ha la neve. wow. Aspetta, e là c'è la nostra macchina? Eh sì, qua sotto c'è... No, non da, è un po' più. No, sotto. No. Qui nel passo falzare va. Mamma mia. Io non mi sono sentito tanto bene, eh. Non credo che tornerò mai. È stupenda. Bellissimo. Stavo facendo sotto però, bellissimo. È veramente bello. Sì. Andiamo a vedere bene. Funivia e Lagazzuai. 2733 metri. Sì, qua, dove siamo adesso. Dove siamo adesso. Questa è la pista. L'unica mia preoccupazione è che dovrò tornare giù. Questa è la pista. Questa è la pista. La pista da sci? Sì. Sì, sì. Sì. Parte da qua. Che forte vedere la neve a giugno. Andiamo su, andiamo su Grigoglio qua. Come? E la cim... E la pelle per la stradina. Ok. Abbiamo deciso così, di farci questa piccola scarpinata fino alla cima. Adesso da qua non si vede perché sta dall'altra parte. Comunque è stato molto bello. E guarda che bellissima vista. Sto continuando a dire che bellissima vista. Tra l'altra parte che sto a fare di vertigini qua non è proprio il massimo. E Tomas non mi ha permesso di fare quella parte. lì ovviamente siamo dovuti venire qua. Sì perché lì è tutto bagnato. Oddio. 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 Che paura. Oddio. 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 Sono arrivato ai miei tagliatelle al ragù, stiamo mangiando l'antipasto e Tomas ha preso uova, speck e patate. Devo dire abbondanti, belli piatti. Buono pupetto? Ok stiamo recuperando le ultime cose, chiuso tutto, abbiamo messo su la lavastoviglie e basta a chiudere la valigia, mi stavo dimenticando la videocamera. Tomas fatti vedere come sei arancione. Tomas ha preso un sacco di sole. Ti sta bene però? Ma non tanto dai, il giusto. Siamo tornati a casa. E c'è qualcuno che mi vuole salutare? Cato Denver? Sei giuro bianco? Sei giuro bianco? Cato Denver? E qui mi chiedono sempre di te, Cato Denver? Sì, è diventato grattissimo. Qui c'è Gata Stellina. Ciao, ciao Gata Stellina. Ciao Gata Stellina. Come la chiami tu Gata Stellina? Gata Stellina. Stiamo guardando Batman, un film dell'89. Però è molto bello, mi piacciono di più i film di Batman, quelli vecchi. Tomas in realtà non è molto entusiasta del film perché vuole giocare a carte. Adesso giocheremo a carte. E non gli piacciono i lo hacker al lampone. Abbiamo capito che mia mamma ci ha comprato i lo hacker allo yogurt al lampone. Spero solo che è l'unica confezione. Sì, è l'unica. Almeno questo. Poi prendiamo cioccolata. Sì, quella classica, dai. Cioccolata. Lampone e yogurt. L'unica rossa. Bocciate quindi, bocciate. Alla prossima. Alla prossima.